Buonasera, buonasera a tutti quanti, vi voglio dire una cosa, mi ero incontrato perché ero il 25 maggio, precisamente fra 20 giorni, ci sono riassunti i comor, che facciamo riuscire e ricordate, che non sapete che lo aspettano. Noi siamo nuori alle vande, la serie e la potenza in cui ci vorremmo ambrezza, stata senza pazzine.